Circa 30.000 i votanti in provincia di Salerno per le primarie del Partito Democratico, Cilento e Vallo di Diano, si sono divisi tra Zingaretti e Martina. Quest'ultimo, sostenuto da Edeluchiani, il governatore della regione però non ha votato, ha sbaragliato la concorrenza ad Agropoli. Oltre 580 i voti ottenuti. Si è fermato a 193 Zingaretti, 35 per Giacchetti. Sempre ad Agropoli, invece, per la segreteria regionale, boom di voti per annunziata, 502. Sia ad Agropoli, Franco Alfieri è stato determinante e non si può dire lo stesso a Capaccio Pesso, ma sono stati in tutto 472 i votanti. Ha vinto Nicola Zingaretti con 250 preferenze, seguito da Maurizio Martina, 196 e Roberto Giacchetti, 26. Per la segreteria regionale, 253 voti per annunziata, 142 Filipelli e 60 per Del Basso De Caro. A Vallo della Lucania, invece, vince Zingaretti con 178 preferenze, 54 invece i voti per Martina, 40 per Giacchetti. Vallo della Lucania, ricordiamo, vedeva candidato per Giacchetti il giovane Domenico Sica. Zingaretti ha vinto anche nel Vallo di Diano, ad eccezione di Sala Consilina, Sant'Arsegno, San Rufo e Sassano. In particolare, nel centro capofila, Valdianese, Sala Consilina, Martina ha ottenuto 539 preferenze, 372 invece Zingaretti, Giacchetti 19. In controtendenza con il risultato nazionale, quello del Golfo di Policastro, a Sapri, la presenza del sindaco renziano Antonio Gentile, ha determinato così il risultato. 240 i voti per Giacchetti, 12 voti Martina, invece, si è fermato a 100 Zingaretti. Tra i sostenitori di Zingaretti, anche l'ex deputato del Partito Democratico, Simone Valiante. Grazie. Grazie.